La procura di Arezzo ha chiesto l'archiviazione per il caso del vaccino somministrato ad Andrea Scanzi, vicenda che nel marzo scorso aveva sollevato polemiche e critiche con l'accusa al giornalista Aretino di aver saltato la fila. Adesso però la svolta. Stando alle conclusioni del PM Marco Dionis, Scanzi non rientrava in alcuna categoria vaccinale di quel momento e dunque non aveva diritto ad anticipare la somministrazione. Tuttavia dal punto di vista giuridico e legale per la procura non si configura alcun reato nella condotta del giornalista. In virtù della riforma del reato d'abuso d'ufficio, ipotesi su cui lavorava la procura, tale fattispecie penale non si è configurata. Perché vi sia il reato di abuso d'ufficio nella condotta di Scanzi occorre infatti che la violazione sia ad una legge o a un regolamento, cosa che per il PM non è accaduta in questo episodio e dunque non è penalmente perseguibile. Il 22 marzo scorso Scanzi aveva raccontato tramite i suoi social di aver ricevuto il vaccino come riservista in qualità di caregiver familiare dei genitori, suscitando immediate polemiche. La procura di Arezzo aprì così un fascicolo. In questi mesi sono stati ascoltati i principali responsabili del servizio dell'Asla ed adesso la richiesta di archiviazione.